salve a tutti benvenuti in questo nuovo video della pantera dello svapo oggi vi porto la recensione dei liquidi di vitruviano allora abbiamo nocelle poi abbiamo partenope poi abbiamo positano e poi abbiamo amalfi oggi proverò i primi due che è amalfi e il partenope partiamo con il partenope che è una sfogliatella napoletana già dall'odore riesco a sentire comunque i candidi che ci sono nel ripieno di una sfogliatella l'odore è molto buono adesso vado a bagnare il cotone ok e vai con il liscio madonna mia ragazzi non potete capire come cazzo è buono sto liquido si sente proprio il ripieno della sfogliatella con il gusto dei candidi che ci sono all'interno ed è molto buono c'è molto buono mi sembra davvero di mangiare una sfogliatella mamma mia ragazzi veramente buono c'è veramente come cazzo è possibile che sa uguale alla sfogliatella cioè si sente proprio il ripieno della sfogliatella e i candidi pure si sentono per me ragazzi questo liquido si becca un bel 10 passiamo al prossimo che è l'amalfi l'amalfi è una torta ricotta e pera dovrebbe essere anche questo buono andiamo un attimo ad odorare allora già sento la pera la ricotta non si sente però bisogna comunque provarlo mamma mia ragazzi anche questo è spettacolare come liquido perché riesco a sentire anche una nota di biscotto non vorrei sbagliarmi però si sente con la pera anche la ricotta c'è tutto bello c'è equilibrato questo sì che è un vero liquido ricotta e pera questo sì che merita un 10 perché buonissimo anche questo ragazzi molto piacevole molto buono anche questo ok ragazzi che dire per me questi due libri si beccano un bel 10 pieno entrambi nel prossimo video facciamo positano e nocelle in descrizione trovate il link del sito dove comunque avete anche un codice sconto del 20 per cento quindi andate a dargli un'occhiata e e ne che dire mi raccomando iscrivetevi al canale condividete questo video mettete tanti mi piace e vi aspetto al prossimo video perché dobbiamo fare questi altri due vi aspetterò aspetterò proprio per fare il video per provarli quindi quindi che dire ragazzi per questo video è tutto e vi lascio con la svapata ciao a tutti